Magnum HD, tutta la potenza di cui hai bisogno. La nuova Magnum HD rappresenta l'ultima novità nel settore delle spazzatrici a scarico idraulico. Essendo completamente idraulica, essa supera tutte le altre spazzatrici della sua classe in termini di produttività e resistenza. Inoltre, la nuova Magnum è dotata di un sistema di filtrazione superiore e un maggior comfort di guida. Tutto ciò garantisce un ottimo rapporto qualità-prezzo. Tutte le caratteristiche sono state attentamente pianificate in modo da soddisfare sia il nostro progetto che le esigenze dei clienti più severi riguardo a potenza, forza, maneggevolezza, semplicità, ergonomia, costi di manutenzione ridottissimi. La struttura di Magnum, eccezionalmente robusta, ne permette l'impiego efficace in una vasta gamma di applicazioni. Il potente motore Kubota, 3 cilindri, 20.6 cavalli, raffreddato ad acqua, garantisce la massima affidabilità ed una rete d'assistenza presente in tutto il mondo. La potenza del motore e il raffreddamento ad acqua assicurano un miglior rendimento totale ed una maggiore durata nel tempo. La versione a benzina è predisposta all'utilizzo con alimentatore a gas GPL. Sarà quindi possibile lavorare con la stessa macchina sia in ambienti interni che esterni. La trazione idraulica, le spazzole, l'aspirazione e il sollevamento idraulico del cassetto rifiuti permettono a Magnum di pulire pavimentazioni molto sporche, in modo rapido ed efficace, agevolando le operazioni di manutenzione e riducendo i tempi morti. In aggiunta, la potenza erogata permette di raggiungere una produttività di ben 18.720 m2 all'ora e una massima velocità di 12 km all'ora. Il cassonetto rifiuti è posizionato frontalmente e può essere sollevato idraulicamente fino a 1540 mm dal suolo. Il cassonetto è flottante e si regola automaticamente, permettendo una raccolta molto semplice anche dei detriti più voluminosi. Magnum è equipaggiata con un filtro a sacche in poliestere classe L, che permette la filtrazione di polveri estremamente fini e ha una maggiore durabilità rispetto ai filtri tradizionali. Il filtro è antistatico, lavabile ed è equipaggiato con uno scuotifiltro automatico estremamente efficace. Questa caratteristica è molto importante, soprattutto quando l'operatore si dimentica di attivare lo scuotifiltro manualmente. La spazzola centrale è flottante e si regola automaticamente a seconda del grado di usura. In aggiunta, l'esclusivo sistema Multisetole permette di raggiungere prestazioni eccezionali su tutti i tipi di suolo. Magnum è particolarmente compatta, al fine di agevolare la manovrabilità in spazi ristretti. Tutte le ruote hanno un ampio diametro e facilitano il lavoro su superfici regolari, in pendenza o in presenza di ostacoli. Inoltre, tutte le ruote sono in gomma superelastica, al fine di evitare problemi di controllo della pressione o di riparazione in caso di forature. Tutti i comandi sono a portata dell'operatore e chiaramente indicati. Inoltre, tutti gli organi meccanici interni sono facilmente accessibili per le operazioni di manutenzione, poiché i pannelli posteriori, laterali e superiori si possono aprire completamente. Sia la spazzola centrale che quella laterale possono essere sostituite rapidamente, senza alcun utilizzo di attrezzi. Magnum HD Tutta la potenza di cui hai bisogno Grazie a tutti! Grazie a tutti!